Dobbiamo fare qualcosa con contenuti virali, cioè ci serve. I gatti sono virali. Questo è Tea Time Benvenuti in un nuovo episodio, questo è Tea Time. Io sono Nick. E io sono Fabio. E oggi guarderemo insieme a voi dei video di gatti divertenti. Guardiamo. Oddio Vai, 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 io sono molto attenzione. Fabio, Fabio da vecchio. Guarda, cerca ancora di fare video virali. Guarda. Sorridi, 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 sorridi. Bravo. Sottodose di coca. E' fatissimo. Minga, quando me sale ho. Madonna, come sto? Madonna. Ma che cazzo fai? Scusa, scusa. Bitch. No. Madonna. Che equilibrio, raga. Neanche io so stare così bene in piedi. Cazzo vuoi? Quello so perché tanto ride, no? No, è il mio gatto questo. Garfield. Questo è il mio gatto. È uguale. Lo sta facendo? Rocky, Rocky, prendi. Vola come la raffalla, punge come un'altra. Scusa. 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 Ecco. Grazie. Cos'è qua? Oddio. Un gatto. Via, via, via. Ce l'hanno scoperti, ce lhanno scoperti, Roger. E poi si gira. Chi è stato? Che cazzo è stato? Che venga a fare il colpevole? Vado. Ma raga, è davvero, cioè è vero che hanno nove vite, porca torna. Non gliene frega un cazzo della prima. Ma se lo fate l'altra, no? Non riesce a... Non ce la fa... Il padre di famiglia, lui. Cazzo vuoi? Durante la partita non mi devi disturbare. Vai, portami una birra. No, no, non toccarmi. Non ti consiglio di toccarmi. Metti questa roba. Quindi ragazzi, si conclude qua il video. È stato abbastanza divertente, devo dire, soprattutto certi elementi gatteschi e felini. Facciamo così, se indovini questa, recuperi e vinci. Ok. Vale due punti. Vale due punti, vai.